Sapere, saper fare e saper essere sono i tre livelli di competenza che contraddistinguono l'IT and Management Academy Enrico della Valle del gruppo Engineering Sita Ferrentino alle porte di Roma. Una delle principali corporate school sull'information technology in Italia che dalla sua nascita ha preparato e aggiornato costantemente tanti professionisti che lavorano per l'azienda leader nella digitalizzazione dei processi per imprese e pubblica amministrazione. L'Academy del gruppo Engineering è il luogo in cui costruiamo il sapere dei dipendenti del gruppo Engineering. delle ragazze e dei ragazzi che entrano in azienda e dei nostri clienti. È un luogo in cui costruiamo percorsi formativi di upskilling, di reskilling, di certificazione professionale e in cui anche supportiamo la crescita della professionalità dei nostri giovani talenti attraverso percorsi specifici in cui trattiamo elementi trasversali di comunicazione e di relazione ma anche tantissima tecnologia per supportare i processi di digital transformation. Un polo formativo che gode di 16 aule informatizzate, un'aula magna, una biblioteca ed un testing center che permette al gruppo di Engineering di dare gli strumenti necessari a nuovi talenti per affrontare le sfide attuali e future del mercato del lavoro. In 20 anni di attività l'Academy Enrico della Valle ha offerto numerosi academy programs aprendo le porte a giovani talenti appassionati all'innovazione tecnologica, percorsi di formazione professionalizzanti rivolti a neolaureati e neodiplomati che sono indirizzati a fornire le competenze digitali e a formare nuovi manager. Gli Academy Program sono i percorsi di inserimento in azienda per i giovani talenti, laureati e diplomati che fanno un percorso di sviluppo e specializzazione professionale ma anche personale che ci permette di inserirli all'interno dei progetti di digital transformation del gruppo Engineering. Sono percorsi lunghi, impegnativi, dove ognuno dei ragazzi accetta una sfida ossia di imparare tecnologie, applicazione delle stesse e anche competenze trasversali che gli permettano di inserirsi al meglio all'interno di team complessi e internazionali del gruppo Engineering. Tra le novità promosse dal campus ci sono tre nuovi corsi, l'Academy Health Care, l'Academy Dot Net e l'Academy Data and Analytic promossi per formare nuovi talenti da inserire nel gruppo di Engineering. Le competenze che punto principalmente a formare sono sia sul punto di vista tecnico principalmente sul punto di vista tecnico ma appunto anche a crescere come persona quindi a migliorare anche la mia persona lavorativa quindi il mio essere all'interno di un contesto sociale quale è quello che mi attende. Vorrei sviluppare competenze diverse non solo dal punto di vista lavorativo ma anche sociale e quindi entrare in relazione con i miei colleghi ma allo stesso tempo imparare nel migliore dei modi il mestiere che voglio fare e andrò a fare nella mia vita.